fodero portabaionetta inglese frog bayonet degli anni 2000 una dismissione originale in cordura moschettone per agganciarlo in eventuale cipernaggio passante doppio ideato per il cinturone inglese ma adattabile in qualunque altro tipo di cintura e cinturone chiuso tramite un velcro molto resistente e dei automatici cuciture ben rifinite molto solido troviamo al suo interno alloggiamento per una lama della lunghezza di 25 cm almeno per cui adattabile a parecchie tipologie di lame diversi